Musica Caro Babbo Natale è l'iniziativa voluta dall'amministrazione comunale per titolare i veri protagonisti di Natale, i bambini. Nei pressi della villa comunale, in piazza Trishen, in piazza Regina Elena e in piazza Loffeto sono state installate quattro cassette magiche nella quale i bambini potranno imbucare delle letterine da far recapitare a Babbo Natale. Ci dice l'assessore alla cultura e allo spettacolo Dolores Perrotte è un'iniziativa importante anche perché fa capire l'importanza del Natale soprattutto per i bambini. Ci sarà una sorpresa finale, vale a dire sarà proprio Babbo Natale a consegnare i doni ai bambini che hanno fatto richiesta nelle letterine. In tutto ciò l'amministrazione cerca di rendere il Natale più gradevole ai bambini ma soprattutto cerca di essere vicino a loro in questo periodo molto particolare, un periodo in cui stare a casa è importante e soprattutto è importante essere in famiglia. Grazie a tutti.